Un omicidio sicuramente che ha un movente passionale, una coppia di due signore che convivevano, una ha sparato all'altra. Uccisa nel sonno, freddata a colpi di pistola dopo una notte di litigi, così è morta Marilena Cioffalo, 34 anni, ammazzata dalla compagna Angela Toni, un anno più grande, nell'appartamento nel quale le due vivevano a Gussago. Penso che l'intero quadro rifletta un rapporto di coppia difficile, quindi questo è il movente che ha spinto l'una a sparare all'altra con un'arma legalmente detenuta. L'ha uccisa, ha ammesso Angela Toni e i carabinieri arrivati sul posto chiamati, alcune ore dopo i fatti, dalla stessa donna che dopo l'interrogatorio è stata condotta in carcere, unici testimoni della tragedia e due vicini di casa che hanno sentito dei rumori nel cuore della notte. Non mi sono resa conto, però la botta, ho sentito due e buona. Ma come erano, come le persone? Tranquille oppure la sentenza litigare? Sì, un po' le sentenze, due e me si fa abbastanza forte, poi sono calmate per un certo periodo e una lavorava, una non.